Noi siamo preoccupati innanzitutto per il fatto che si mettono di nuovo le mani sulla galleria, come avvenne 35 anni fa. Una galleria che, come voi avete avuto modo di vedere, è scollegata sia all'autombria che all'automarche. Quindi si sono buttati dei soldi 35 anni fa, parecchi soldi, perché a suo tempo si parlava di 350 miliardi di vecchie lire, e adesso si andranno a buttare altri 120 milioni, sembra, su una galleria che comunque rimarrà scollegata. Quindi questa è la prima questione che noi vorremmo porre, nel senso che bisognerebbe operare per lotti funzionali. Noi avremmo preferito che venisse realizzato un lotto verso Fermiliano, lì a Canavaccio, e salire con la superstrada esistente, in maniera tale che i cittadini dell'Alta Valle avessero un servizio, perché noi abbiamo necessità più che altro di andare verso la costa, dove c'è l'ospedale, c'è le scuole, ci sono le strutture. Chiaramente è importante anche il collegamento con l'Umbria, però al momento a noi serve l'altro. Quindi per noi è un'opera che purtroppo rischia, perché poi a livello politico le cose sono dinamiche, quindi cambiano di continuo, rischia di fare la fine di quell'altra, cioè si buttano dei soldi, si apre, poi rimane lì chissà per quanti anni. Perché abbiamo parlato anche stamattina con il commissario, lui stesso ha detto che ha fatto i progetti, però poi questi devono essere finanziati. Questa galleria qua, ad una canna sola, a senso unico, Marche Umbria, dovrà necessariamente restare in questo modo, finché non si farà la seconda canna. La seconda canna è ottimisticamente prevista per il 2035, quindi noi avremo una situazione precaria almeno fino al 2035. E questo è una cosa che ci preoccupa molto.